Chi di voi sa che abbiamo un debito pubblico? Alzi la mano. Sapete tutti, eh? Chi è che mi sa spiegare bene da cosa scaturisce il debito pubblico? Me lo deve saper spiegare bene. Alzi la mano. Allora, cari amici, abbiamo un debito pubblico e lo sappiamo tutti, ma non sappiamo perché ce lo abbiamo. Questa cosa è un po' rischiosa perché una persona, un essere umano che ha un debito importante e non sa da dove viene e quindi è fuori controllo, è fallito, è solo questione di tempo. Infatti, cari amici italiani, l'Italia sta fallendo. Gli imprenditori si suicidano, gli operai vengono licenziati, si suicidano, i numeri non li danno più. Il 50% del tessuto della media piccola impresa è andato in malora. Siamo vessati da istituzioni come Equitalia, adesso gli hanno cambiato nome, che era iscritta nel Delaware, paradiso fiscale per eccellenza, tassazione allo 0%, iscritta come società religiosa e no profit. l'Equitalia nel Delaware. Quindi noi abbiamo un debito pubblico e non sappiamo perché. Siamo falliti. Perché va pagato? Ce lo tolgono dalle tasche, questi soldi vanno via, tanti, miliardi, ogni anno vanno via. Non li pagano i politici, li paghiamo noi, col sudore della nostra fronte, togliendoci un tozzo di pane, un libro al bambino per la scuola, un giocattolo. E com'è possibile che noi sappiamo di avere un debito e non facciamo nulla per sapere chi l'ha fatto sto debito? Perché io non mi sono indebitato con nessuno. Quindi se qualcuno ha fatto un debito che se lo pagasse lui ce l'ha lo Stato, ma io il signor Stato non l'ho mai conosciuto. Non esiste. Non esiste la signora Equitalia. Esistono esseri umani dentro le istituzioni. Quindi noi popolo siamo vessati da esseri umani altri che si arrogano il diritto, grazie alla nostra ignavia e ignoranza, di vessarci. Pressione fiscale è quasi al 70%. Il signor Stato è un dittatore. Poi vado a leggere l'articolo 3 della Costituzione. La Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del cittadino. Rimuovere gli ostacoli. Ma io vedo che la Repubblica me ne mette di continuo. È una nemica. Bisogna disconoscere alla signora Repubblica, buttarla fuori di casa perché siamo noi il popolo sovrano, articolo 1 della Costituzione. Siamo sovrani del debito, ma non del credito. Cioè ci hanno reso sovrani del debito, ma non del credito. Quando l'Italia ha incassato, nessuno ci ha chiamato a riscuotere. Ci chiamano solo a pagare. E da cosa viene questo strano modo nostro di rapportarci al signor Stato? Dalla mancanza di informazione. Quindi, al di là del discorso degli UFO, che uno può crederci o meno, pur se io abbia detto che detesto il termine credo perché è stupido, essendo il fenomeno oggettivo, si fa ricerca, cioè scienza. Ma se non sappiamo nemmeno niente sui nostri soldi e sul nostro debito, beh, potrebbe anche essere che anche sugli UFO non sappiamo bene come stanno le cose. Andiamo a vedere i soldi. E cito un personaggio famoso, che è il signor Henry Ford, imprenditore, quello che ha fondato la casa automobilistica che porta il suo nome, che un bel giorno dice questa frase strana. È un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Che ci sta dicendo il signor Ford? Questi soldi sono una ricchezza o sono una schiavitù? Questo è il grafico dell'andamento del debito pubblico italiano fino al 2017. Tra il 50 e il 69 il debito pubblico era il 30% del PIL, ci rimaneva in tasca il 70%. L'anno scorso abbiamo raggiunto il 133%, andiamo del 33% sotto zero, cioè si mangia tutto il PIL. Ma qui c'è stato Monti, è cresciuto, non è diminuito. Quindi questa informazione è importante. E guardiamo i soldi. Questo ente a cui pensiamo tutti i santi giorni, volenti o nolenti, a volte lo pensiamo con amore, a volte lo pensiamo con odio, ma tutti i giorni pensiamo ai soldi. Guardate un po'. Molti di voi sicuramente hanno avuto in mano queste tre cartamonete. Le 500 lire col mercurialato, le 100 mila lire col caravaggio e i 10 euri. Analizziamoli uno per uno. Qui c'è scritto Repubblica Italiana e poi ci sono una serie di firme. Direttore generale del Tesoro, Cassiere Speciale e Corte dei Conti. Poi c'è scritto biglietto di Stato a corso legale. Non c'è scritto la legge punisce gli stampatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Non c'è scritto pagabili a vista al portatore. Ci saranno dei motivi per cui non ci sono scritte queste cose nella moneta da 500 lire. Quello che vi dico brevemente è che questa moneta non creava nessun debito. Era moneta sovrana del popolo italiano. Ogni emissione che la zecca dello Stato faceva, vedete, officina, carte e valori, quella che stampa anche le marche da bollo, i francobolli, ogni emissione è la ricchezza del popolo, ogni emissione di moneta, perché la moneta è come un metro, misura la ricchezza che il popolo italiano compra e produce. Poi andiamo alle 100.000 lire. E già qui le differenze sono sostanziali. Sparisce in Repubblica Italiana, compare Banca d'Italia. A firmare sono diversi personaggi, il governatore e il cassiere. E c'è scritto pagabili a vista al portatore. Poi c'è scritto la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Pagabili a vista al portatore significa che tu potevi andare alla Banca d'Italia e chiedere il corrispettivo in oro di 100.000 lire. Andiamo a vedere gli euri. Quindi già due monete che non c'entrano nulla l'una con l'altra, quindi uno status giuridico differente, perché la moneta è un istituto giuridico. E' sparito tutto. C'è più nulla. C'è solo un autografo, M Draghi, e poi c'è una cosina piccola 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 che nessuno nota mai qui. Non c'è più pagabili a vista al portatore. Non c'è più... La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Non c'è più Repubblica Italiana, non c'è più Banca d'Italia. Non c'è scritto nemmeno BCE. C'è la sigla, assieme a scritta in vari modi. Però è scomparso tutto. Quindi questa moneta è ancora cambiata natura giuridica. Questo cosino qui microscopico, vi assicuro non è uno dei batteri che salta lì dalla Lorenzin, ve lo garantisco, non è saltato lì. Guardate che cos'è. E' il simbolo di copyright. E' il simbolo di copyright. La moneta, quindi, da istituto di diritto pubblico, perché la moneta è la misura della nostra ricchezza, è diventato un istituto di diritto privato. Vedete, ci dicono che noi abbiamo un debito pubblico adesso di circa 2.400 miliardi. Non è vero, amici. Il debito pubblico del popolo italiano è tutta quanta la moneta esistente in Italia, fisica ed elettronica, perché tutta la moneta che noi usiamo ci viene prestata da una banca privata, privata, che si chiama BCE, che è in mano ad altre banche private, tra cui anche la Banca d'Italia, che è diventata privata anche quella, cioè ci è stata privata, ce l'hanno tolta privata. Quindi la moneta ha cambiato la natura giuridica del suo status sotto il nostro naso e non ce ne siamo accorti. Ah, che sapienti! E magari poi arriva il cugino, l'amico, la moglie, il marito, e ci dice, sai, ho visto un UFO. Ah, 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 che ridi. Eh, ma tutti lo sanno che gli UFO non esistono. Tutti chi sono? Perché tutti è sbagliato, perché c'è qualcuno che crede e qualcuno che non crede, c'è qualcuno che sa, c'è qualcuno che non sa, quindi tutti non significa nulla. Quindi, spesso, soprattutto le persone che hanno un alto livello di formazione scolastica, si sentono autorizzate senza avere nessuna competenza, senza avere mai studiato l'ufologia si sentono in diritto di aggredire un loro simile perché tutti sanno che gli UFO sono una sciocchezza, tutti chi, nomi e cognomi, ad esempio Caria non fa parte dei tutti e quindi se Caria non fa parte dei tutti già non è tutti, è qualcuno, qualcuno tranne Caria e magari tranne qualcuno di voi. Quindi vedete quanto siamo sciocchi amici e non siamo sciocchi sugli UFO che uno potrebbe pensare alla fine che me ne frega, siamo incompetenti in maniera spaventosa sulle basi stesse della sopravvivenza della nostra vita e della nostra famiglia. senza soldi si muore, lo sappiamo tutti, non ci si cura, non si mangia, non ci si lava, non si paga l'affitto o il mutuo della casa, non si va a scuola, non si va da nessuna parte senza soldi e non li conosciamo. ma ci pensate che condizione di grave e spaventosa debolezza che abbiamo noi, popolo italiano ex sovrano, se mai lo siamo stati. Ora il problema grosso amici poi è un altro, che noi con i soldi ci finanziamo la vita fisica, ma poi moriamo. C'è una grande sconosciuta che abbiamo tenuto fuori da casa nostra, si chiama Signora Morte. Signora Morte non ha paura delle porte chiuse, entra dal tetto, dal cammino, attraversa i muri e ci viene, un giorno ci viene a chiamare. quello che accade quando la Signora Morte ci chiama non può essere dopo gestito con i soldi. C'è stato un capomafia che si è fatto seppellire con la barra piena di soldi, ma non se li è portati via? Quando noi andiamo via da questo mondo, non ci portiamo via manco gli spilli che tengono i colletti delle camicie nuove. Eppure nessuno di noi ha un progetto reale, concreto e scientifico sulla propria morte, post-morte mi intendo. Qualcuno dirà, ma tanto non c'è nulla, dammi le prove, dov'è la prova? Eh ma poi c'è Gesù, dammi la prova. Perché se c'è un islamico dice, io so meglio di voi, a te ti aspetta Gesù, a me dieci vergini. Ma è vero? La domanda è, ma è vero? È vero? Eppure così come i soldi riguardano tutti e non ne sappiamo nulla, anche la morte riguarda tutti noi esseri umani e non ne sappiamo nulla. Abbiamo delle credenze, delle ipotesi, delle opinioni, ma le certezze scientifiche siamo al vuoto pneumatico, lo zero assoluto. E invece la morte è un fatto scientifico, amici. Non è un fatto religioso. Perché se scientifico il mio ingresso in vita in un corpo, è ovvio che scientifico anche la mia uscita dal corpo e tutto quello che accade dopo. Ma è una scienza che a noi popolo è stata sottratta per dominarci attraverso la paura e l'ignoranza. Talmente siamo paurosi e ignoranti che non sappiamo nulla nemmeno sui nostri soldi, che sono la nostra sopravvivenza.